Hola Automaticers e futuri Automaticers, oggi parliamo di una cosa bellissima, parliamo delle pubblicità di Google, o meglio, come si chiamano tecnicamente, le Google Ads. Parleremo di che cosa sono, come funzionano, come creare la tua prima campagna, faremo un tutorial italiano con uno degli espertoni, più espertoni italiani e simpaticissimo. Mi sono accelerato perché non vedo l'ora di poterci parlare, ma prima di entrare nel vivo di questo tutorial, benvenuto in Automatic, anzi ti do il mio benvenuto in Automatic, io mi chiamo Stefano e ti do il benvenuto in Automatic e dici, ma dici che fa sta Automatic, di che si occupa? Ebbene, si occupa di aiutarti a mettere il pilota automatico al tuo business, perché è la prima e un'unica academy in Europa che fa sta robetta qua. Ma potresti dire Stefano, sono un po' confuso, sono un po' confusa, mi hai dato il benvenuto, ma non so bene questa roba. Tranquillo, tranquilla, vai su automatikin.com slash gratis, ci trovi dentro la nostra newsletter, ti ci iscrivi e gratis, appunto, ricevi ogni settimana tre strumenti di automazione che ti aiutano nel tuo percorso di automazione del tuo business. Google Ads, diciamo che è una figata di quelle atomiche, ti basta come riassunto? Bene, ora vediamo il riassunto di quello di cui parliamo oggi, così io vado dal mio amico Fabio e cominciamo a chiacchierare di Google My Business, di Google Ads, Google My Business è un altro video, se non l'hai visto il video di Google My Business te lo lascio qui in alto, che è un'altra figata pazzesca. Oggi parliamo di Google Ads, che cos'è e come funziona, ma soprattutto, ma si paga, perché questa è una delle domande classiche. Secondo, faremo un tutorial di quelli bomba, spulceremo tutto l'account dall'A alla Z e soprattutto, udite, udite, resta fino alla fine perché ti diremo come puoi automatizzare le tue campagne Google. Bello? Interessante? E' certo che interessante. E allora io ti do il mio personale benvenuto a Fabio. Ciao, bello. Buongiorno, ciao. Ciao, come stai? Che carica, che carica che mi dai, bellissimo. Non vedevo l'ora, volevo parlare con te, non vedevo l'ora. Come stai? Tutto bene, tutto bene, grazie mille. Benissimo, benissimo, benissimo. Senti, io vado proprio così, preso dall'ansia, prima domanda. Fammi un pochettino capire che cos'è, come funziona, ma soprattutto Fabio si paga a Google Ads. Diamo un po' con l'inizio a questo video. Si paga e ovviamente dobbiamo far sì che costi meno di quanto ci fa guadagnare, altrimenti non ha senso. Questo è il primo punto. Ci sono in realtà delle cosine che possiamo ottenere da questo strumento che sono gratuite, alcune sue funzioni ad esempio. Quindi non necessariamente si riesce ad ottenere traffico gratis, anzi comunque in quel caso lì si tratterebbe un po' di una forzatura del sistema. Il traffico normalmente si paga. Però ci sono dentro un sacco di strumenti ad uso gratuito, tipo per fare keyword research o comunque trovare nuove parole chiave. Quello comunque fa comodo, quindi bene averlo. Per intenderci, Fabio, che cos'è la Google Ads? Cioè dove si vede, dove si mostra? Io vengo sul tuo schermo, se vuoi, così mi fai vedere proprio la parte iniziale. Per far capire ai nostri amici come si presenta. Noi siamo appena entrati su un account Google Ads, quindi io vado su Google, scrivo nella barra di ricerca, Google Ads, entro e lui inizierà una procedura guidata dove sostanzialmente mi chiederà i dati di pagamento, perché appunto si parte da lì. Devo inserire la carta, poi posso non fare mai una campagna e quindi non spendere nulla, però sarà necessario comunque per poter attivare l'account senza rotture di scatole. E a questo punto potremo fare una serie di cose. La prima cosa appunto è la realizzazione della nostra prima campagna. Campagna che cosa significa? Noi da dentro Google Ads che cosa facciamo appunto? Creiamo delle campagne pubblicitarie dove andiamo ad acquistare del traffico su tutte le varie piattaforme di Google, che quindi sono chi cerca qualcosa su Google, chi naviga su YouTube, chi sta navigando siti e gli appaiono di fronte dei banner delle pubblicità o naviga su un'app. E potremo quindi scegliere che cosa desideriamo. Ok, ok. Come si presentano le pubblicità che lanciamo? Allora, facciamo... Tutto il motore di ricerca. Esatto, facciamo un esempio semplice. Io sono andato su Google e ho cercato una cosa molto semplice, carta A4. Quello che vedete davanti è la schermata prima di scrollare. Quello che troviamo, la prima fila, questa dove vediamo foto e prezzo, si chiama Google Shopping. È una tipologia di campagna che possiamo usare sugli e-commerce. È necessario che il sito preveda l'acquisto online IVA esposta. Quindi va pensato, tipo nel B2B può presentare criticità. Quello che troviamo sotto invece è Google Ads ricerca, il più classico di tutti, dove abbiamo quindi degli annunci testuali. Dopo arriva l'organico. Questo ci fa pensare quanto importante sia. Senza scrollare è tutto a pagamento. Da mobile anche peggio, perché da mobile vedo soltanto la parte a pagamento e solo dopo arriva la parte organica. Se ci avete fatto caso, qua non c'è la rete di ricerca. Si passa da shopping a organico. Quindi da mobile, shopping ancora più importante. Quindi diciamo che se vuoi ottimizzare il tuo sito per la parte dei motori di ricerca, ti lascio in realtà un video che abbiamo fatto con Chiara Clemente con l'utilizzo di SEMrush che fa cose fighissime. Te lo lascio qui in alto, ma puoi andare lato ottimizzazione della tua pagina. Se invece senza saperne leggere e scrivere, non vuoi perdere tempo, ma ci vuoi finire direttamente sopra, perché Google nei risultati di ricerca ti lascia quel boxino apposta perché si lecca le dita che tu gli dai soldini, bene, salti la fila, giochi il jolly e arrivi in prima posizione, più o meno Fabio, perché poi vedremo che non è sempre tutto. Quello di cui ci ha parlato Chiara, cioè la SEO, è ovviamente importantissima. Google Ads e SEO in realtà non sono nemici, ma sono i migliori alleati. Lo scopo, ad esempio, qual è? Posizionarti per una chiave SEO può essere impegnativo, richiedere del tempo, e io devo sapere quanto effettivamente questa chiave mi genera in termini di fatturato. Mi porta i contatti che desidero, nella quantità e nella quantità per me necessaria. Bene, possiamo provare con Google Ads a intercettare quel traffico, vedere se il gioco vale la candela e quindi crearci una strategia, la SEO organica, per presidiare quella chiave. Avete capito il livello di ospiti che ti porto? Questa è una di quelle cose bellissime che nessuno ti dice, per esempio, che io faccio da un po' di anni, ma perché l'ho scoperta sulla mia pella pagando soldi, e invece poi è una di quelle cose fighe, fighe, fighe. Il limite di Google Ads, cioè, ovviamente, è uno strumento con tantissime potenzialità, ma ha un costo. Quindi noi dobbiamo usarlo bene affinché quel costo sia per noi interessante. Io vi faccio vedere un esempio semplice. Vai, dimmi, dimmi tu. Prego. Quando puoi, ricondividimi lo schermo, che così ti faccio vedere due step. Quando noi andiamo a creare una campagna, la prima cosa che ci chiede Google è qual è il nostro obiettivo. Traffico sul sito, considerazione del brand, notorietà del brand, promozione di un'app. Questa roba, vi dico chiaramente, chi se ne frega in questo momento, non è ciò che ci interessa. A noi ci interessano tre cose. Vendere, contatti, visita in negozio. Queste sono le tre macro categorie di cose che possiamo fare con Google. Far vendere un e-commerce, far suonare un telefono, compilare una richiesta di preventivo, portare persone in un negozio. E sono cose che riesci a fare bene. Quindi, oddio, se io faccio il primo esempio di vendita, dopo ci farà scegliere il tipo di campagna, e qui appunto poi andremo a vedere come creare questa campagna affinché spenda quanto è giusto che spenda, cioè coerentemente con il fatturato che genera. Lo vediamo fra un secondo. Io ho la cosa che volevo dirti, che è una delle cose che utilizzo questo tipo di campagna, anche quelle di Facebook in realtà, su cui abbiamo anche da quel punto di vista un bel video che ti lascio qui in alto, e tutti i video, tutto quello che diremo ragazzi, lo otterrete o in alto o che si apre, oppure in basso in descrizione. Così abbiamo chiarito anche questa parte qui. Una delle cose, per esempio, ho una nuova geniale idea di un corso che voglio lanciare. Ma la gente, effettivamente, a sta roba ci sarebbe, cioè c'è potenziale mercato, ci sarebbe interessata. Sì, magari ci metto 50 euro su una campagna, invece di buttarci migliari di euro e migliari di ore di lavoro, ci butto 50 euro su una campagna, magari mi decido se si registrano il 10% della gente che visualizza la pagina. L'idea è validata e quindi posso investire tempo nel fare un corso, altrimenti ciaone. Landing page facilissima, anche qui vi posso lasciare in alto in descrizione un video fatto su come sviluppare una landing page con degli strumenti gratis e veloci, fatto con il buon Bernardo Mannelli. Quindi anche qui cose facilissime. Infatti spesso 50 euro e ti si è salvato la vidia. Fabio, una volta che abbiamo capito che possiamo utilizzarla per vendere, per portare traffico, come impostiamo la campagna? Allora, questo si entra già in una cosa più divertente. Facciamo l'esempio più classico. Quindi faccio una campagna perché il mio obiettivo è vendere, scelgo ricerca. C'è qualcuno che sta cercando qualcosa su Google. Vado avanti, mi chiederà cosa ti interessano, visita il sito web, telefonate, visita il negozio, mi fa una domanda che in realtà avevamo già visto prima. Possiamo spuntare un po' cosa ci pare, non è che cambia la vita. Nel nostro caso comunque l'obiettivo sarà portare una persona sul nostro sito affinché dopo compri. Quindi metto un bel sito a caso e vado avanti. Continua. Sotto c'è un banner che ci dice inizia a monitorare le vendite come conversione. Questo sarà un tema che andrà affrontato. È un tema importante. Cioè Google lavora appunto con l'intelligenza artificiale. Quindi è necessario che Google sappia quando abbiamo venduto, quando è avvenuta l'azione che noi riteniamo importante. Per questo possiamo usare un suo pixel oppure utilizzare Analytics, che probabilmente già tutti abbiamo, comunque un po' conosciamo. Se usiamo Analytics è molto molto facile. Una volta che siamo dentro la campagna, di nuovo, qui siamo già nel primo step di una campagna, di nuovo ci fa una domanda ridondante. Cioè ci chiede rete di ricerca o rete display? Perché in realtà possono un po' coesistere e questo ci può andare bene. Ci chiede l'area geografica in cui vogliamo far vedere le nostre campagne e possiamo scegliere target minuscoli, anche cap, anche quartiere di una città. Se sappiamo che in quel quartiere è quello benestante, quindi dove il nostro prodotto trova una miglior pubblico, un pubblico più adatto a lui. E poi arriva una cosa bellissima. Arriva questo. Come vogliamo pagare i nostri click? Come vedete in questo momento due opzioni sono disabilitate perché non ho ancora collegato appunto le conversioni. Ma è questa la grande forza di Google Ads. Nella fase iniziale, quando abbiate una campagna, è la prima volta. Doverte scegliere offerta click. Cioè noi diciamo che siamo disposti, noi paghiamo i click sostanzialmente. Questo però ci servirà solo per iniziare. Aspetta Fabio, fammi capire una cosa sui click. Quindi io creo un annuncio con la mia carta a quattro. La persona lo vede, ma io non pago, pago solo nel momento in cui quella persona clic, fai clic e arriva sulla pagina dove io lo voglio mandare. Esatto. Ma questo in realtà non ci basta. Questo qui è ciò che facciamo all'inizio. Vi spiego meglio. Dopo andremo a vedere anche come si crea l'annuncio eccetera. Però nel momento iniziale noi paghiamo il click, ma questo click quanto lo paghiamo? Beh, noi diciamo, senti, io più di 50 centesimi non te li voglio dare. E quindi tipo mettiamo un tetto a questa spesa e la macchina comincia a girare. Comunque rimane un funzionamento primitivo, in altre parole. Noi dobbiamo dire, noi potremo impostare le campagne, si chiamano CPA o ROAS tendenzialmente. Cioè, se io vendo mille euro di prodotto e su quei mille euro di prodotto ho il 20% di marginalità, quindi mi rimane pulito in mano 200 euro, io non sarò disposto a spendere in pubblicità, facciamo un esempio, più di 100 euro, altrimenti non sto guadagnando niente. Quindi noi possiamo dire a Google un ROAS, cioè dire, caro Google, te al giorno puoi spendere fino a mille euro, facciamo un esempio, di più no perché non saprei gestirlo, ma spendili solo e soltanto se mi generi un fatturato dieci volte superiore a quanto sto spendendo in pubblicità. altrimenti non mi ci rimane il margine. Questa è una funzione enorme, perché spendiamo solo se quella spesa è coerente con il nostro obiettivo e questa cosa la possiamo dividere, perché noi potremmo avere tanti prodotti su cui abbiamo marginalità diverse o una volontà politica diversa. Su questo prodotto io dico, questo io voglio entrare sul mercato, anche se ora ci guadagno meno, pace. Altri prodotti che tipo hanno packaging ingombranti, maggiori difficoltà logistiche, se non ho un ottimo margine, non mi conviene impegnarmi nella vendita di quei prodotti lì. In maniera similare, lo possiamo fare per le richieste di contatto. E lì è molto importante essere un pochino svegli noi, perché sennò Google dici prega. Cioè noi possiamo di nuovo dire a Google, guarda Google, io per ogni richiesta di contatto sono disposto a spendere x euro. Addirittura possiamo fare delle campagne dove non paghiamo il traffico, ma paghiamo soltanto l'avvenuta richiesta di contatto. Quindi diciamo a Google, caro Google, una telefonata mi dai, sono disposto a pagarti da un euro. E lui ci chiederà quell'euro solo se effettivamente è scattata quella telefonata, se no è traffico gratis. In realtà già l'inizio, quando hai cominciato a parlare di marginalità e di un prodotto di costo di copertina, già ci siamo, già ti ho voluto bene ancora più di prima. Questa è una cosa su cui bisogna essere attenti, perché molto spesso, prego scudimi. No, no, vai tu, vai tu, vai tu, vai tu. Molto spesso sottovalutiamo i tanti touch point che abbiamo nelle nostre pagine. Se noi nel nostro sito, nella nostra landing abbiamo, che ne so, il telefono, Whatsapp, la mail, è una bella forma dove ti chiedo anche la partita IVA. Probabilmente chi compila quella forma e ci mette la partita IVA è una persona molto più interessata di chi mi manda un Whatsappino. Quindi possiamo dare due valori diversi a questi obiettivi. e quella cosa che volevo dire io è invece a te che ci stai guardando, amico o amica automatiker, questo video nasce sotto due, diciamo, profili, cioè potresti fare due, hai due interessi, due tipi di approcci diverso. Il primo è l'approccio è, tu sei un professionista, sei un imprenditore, magari vuoi farlo da solo, perché sei all'inizio. Bene, questo strumento, questo video, nasce per darti appunto i come muoverti il tutorial da là alla zeta una guida completa per lanciare la tua campagna, come vedi, dandoti anche un'apertura strategica mentale che è quello che sempre cerchiamo di fare sul canale. Dall'altra parte invece potrebbe essere anche nella situazione in cui non vuoi lanciarla da solo, la campagna, ma da professionista, da imprenditore, avendo un lavoro che è diverso, capisci quello che è lo strumento per poi parlarne con un tecnico in maniera intelligente, in maniera formata, come si dice poi letteralmente sei educato o educata su quel tema. Allora ci potete parlare magari quei 100 euro spesi nel consulente che ne sa molto più di te perché mangia pane Google Ads alla mattina, magari sono 100 euro ben spesi e tu sai come leggere le performance che poi ottieni. Questi sono i due obiettivi delle due facce della medaglia di questo video, Fabio, quindi le abbiamo anche tolte. Torniamo però a bomba sul tuo schermo perché mi siamo rimasti, anzi ci tolgo le nostre facce e faccio vedere solo lo schermo, eravamo rimasti sul click. Noi quindi nella prima fase se state provando a crearvi la vostra prima campagna vi consiglio di scegliere click e di mettere un tetto, cioè dirgli comunque non mi pagare un click più di tot. Qui si va un po' a buonsenso a seconda di quanto è competitivo il settore. Purtroppo non c'è una regola, è una cosa che dobbiamo un po' imparare con l'esperienza. Ah, quindi non ti posso chiedere quanto spendere al giorno per la campagna? Sì, allora questa cosa che la possiamo decidere tipo quanto investiamo su Google Ads se sono una farmacia che ha un catalogo di 30.000 prodotti e vendo in tutta Italia tranquillamente migliaia di euro al giorno, senza problemi. Se sono una gelateria i cui clienti vengono al massimo da 6 chilometri, quando speso 5-6 euro probabilmente è più che sufficiente. Quindi va sempre calcolato che cosa vogliamo fare. La gelateria gli serve che una persona lì vicino salga in bici e una giornata di sole decida di venire a prendersi un gelato. Questo è l'obiettivo della gelateria. Sempre legato in un certo senso alla marginalità perché la vecchia regola che si diceva una volta dei 50 euro al giorno come spesa minima per far girare la campagna può essere o non essere vero a seconda dei margini che tu hai del tipo di business che tu hai e del tipo di target di persona che tu vuoi contattare. C'è un dipende purtroppo o per fortuna nel mondo del marketing della comunicazione e le automazioni non fanno differenza c'è un dipende grosso quanto una casa dietro l'angolo di ognuna dei temi che andiamo a toccare. Per alcuni tipi io non voglio disincentivare una persona al dire ci provo da solo che secondo me è anche cosa educante nel senso che mi ci misuro e scopro tante cose è ovvio che ci sono tantissime finezze che hanno un impatto pesante su quello che sarà il rendimento della campagna. Quindi serve tanto tempo purtroppo questo uno lo deve mettere in conto serve tanto tempo per far funzionare bene e lubrificare il macchinario. Permettimi di spezzare un'ultima arancia poi torniamo davvero nella parte del tutorial sempre per accendere una lampadina prima abbiamo citato di Google Analytics abbiamo fatto un bellissimo video su questo canale con Gaetano Romeo anche questo te lo lascio in descrizione ma il punto è quello che vorrei su cui ragionassi è che anche se crei la tua prima campagna occhio a non crearla e dimenticarla perché? Perché la campagna va letta interpretata e ottimizzata a seconda diciamo della fase di vita della campagna stessa perché altrimenti rischi di buttare soldi dove non dovresti buttarli mettiamola così quindi devi guardare la campagna come un elemento vivo che tu curi come se forse diciamo il tuo orticello magari non tutti i giorni ma la devi curare aperto e chiusa l'ultima parentesi io torno a catapulta sul tuo schermo perché sono tipo la storia voglio sapere come va a finire questa allora quindi abbiamo abbiamo iniziato dobbiamo dare il nostro budget giornaliero io sarò molto spendacione con ben un euro gli ho detto che voglio massimizzare voglio ottenere dei click non sono disposto a spendere più di 50 centesimi per ogni click e continuo molto semplice qua mi chiede le opzioni che vedremo dopo in questo momento non ci interessano salvo e continuo intanto cerchiamo di fare lo zoccolo duro la nostra campagna quindi le basi e in questo momento la nostra amica carica mentre sta caricando cos'è che sostanzialmente dovremo andare a generare dovremo decidere quali sono gli annunci e le parole chiave che vogliamo utilizzare e guardate che cosa fa di divertente io prima avevo scritto www.topolino.it come esempio di sito guardate che cosa fa mi sta suggerendo le parole chiave lui mi dice io ho già trovato secondo me quali sono le parole chiave che ti rappresentano questo può essere un ottimo campanello d'allarme per capire se il vostro sito è stato mal interpretato nella SEO da Google perché qui dovete trovare ciò che vi rappresenta se così non fosse allarmi mi sono spiegato ok allora ha spiegato benissimo fatto questo noi scegliamo quelle che sono le parole chiave che ci interessano a noi quindi io sono Topolino e ho deciso che voglio vendere gli abbonamenti quindi seleziono la parola chiave la posso scrivere posso fare esattamente cosa voglio però va bene io faccio un esempio cancello tutto tengo Topolini così perché mi piace a me salvo e continuo e a questo punto mi chiederà di creare il primo annuncio l'annuncio sarà testuale in realtà questi annunci noi possiamo mettere tanti titoli e tante descrizioni questi annunci sono composti da alcuni titoli e alcune descrizioni che poi lui ruoterà cercando la combinazione migliore se si fa un conto matematico di quante combinazioni ci sono tra 15 titoli e 4 descrizioni vengono fuori migliaia quindi sono veramente tante e qua di nuovo il consiglio che vi do è di mettere in risalto quella che è la vostra caratteristica più importante il motivo per cui il vostro cliente vi sceglie immaginate che Google Ads vada a fare vada a rispondere alle prime domande che vengono fatte dal vostro commerciale cioè il suo scopo è quello è un commerciale di là quindi è un commerciale però versione pubblicità che tu però deve essere in un certo senso è finita la parte di come dire butto un annuncio e la gente mi contatta deve essere più ecco la conoscenza del buyer persona altro lì video in descrizione perché questo capisci bene che quando lanci la pubblicità e ci metti i soldi hai bisogno di un certo tipo di struttura di comunicazione di marketing di vendita è un video molto trasversale questo però la cosa importante è che quando ci metti i soldini cominci a capire con chi stai parlando con quale tono di voce cercando di capire quali sono i problemi che tu vai a risolvere in quale parte del funnel ti trovi anche sulla parte del funnel ti lascio un video in descrizione se proprio sei a zero su ognuno di queste cose ti consiglio vedi di questo video e poi vai in descrizione e ti rispulci uno a uno e ti si apre un mondo bellissimo ok aperto e chiusa parentesi quindi io sono Topolino e cosa potrebbe essere la caratteristica per cui una persona che cerca annuncio dice cavolo però lui sì lui davvero sì ora forse non è l'esempio migliore però tipo Topolino educa tuo figlio no secondo me è una cosa molto bella potrebbe spingere un genitore a dire io lo compro lo compro per mio figlio bene quindi noi qui creiamo i nostri annunci titoli e descrizioni salva e continua molto semplice e così noi avremmo realizzato la nostra prima campagna semplicissima qui mi dice che non può essere pubblicata ancora perché devo creare gli annunci e me lo fa fare e che non ha imprevisto traffico perché in questo momento non ha ancora un dato statistico correggo la cosa mi sono scordato nuova descrizione ah non ho messo sufficiente descrizioni quindi metto descrizione 2 perché ho messo troppo poca roba e così facendo noi ci siamo in teoria abbiamo già fatto ora è chiaro che una cosa del genere non avrà prestazioni eccezionali cosa vi consiglio di fare vi consiglio di crearne più di una questo è normale non vi preoccupate se vi dice così perché inizialmente non lo sa questo è uno dei limiti aspetta racconta bene che parte non sa non sa quale traffico quale pubblico potenziale possiamo intercettare quindi io tipo gli ho dato una parola chiave in questo momento che è un po' strana tipo quindi se lui non sa stimare da subito quanto traffico quella parola chiave può intercettare mi dice sei sicuro noi possiamo dirgli vai avanti vai avanti uguale ecco quello che vi consiglio di fare quando cercate le parole chiave è di perderci un pochino di tempo cioè investite del tempo nel trovare delle parole chiave che siano precise meglio vanno a descrivere il vostro servizio tanto più efficaci saranno è inutile magari aggiungere scusami aggiungerne più di una rispetto alla keyboard secca esatto allora cosa si può andare a fare per migliorarsi strada facendo noi vediamo che il nostro prodotto può essere cercato in tanti modi possibili abbiamo fatto esempio Topolino Topolino c'è abbonamenti Topolino ci saranno la rivista ci sarà il quindicinale i vari formati i memoriali non lo so tante possibili intenzioni di ricerca ognuna di queste se andiamo su Google e facciamo delle prove può essere cercata in modi diversi quello che vi consiglio di fare è di dividere i vostri ambiti i vostri gruppi di parole chiave che fanno riferimento allo stesso concetto in campagne distinte così da avere un controllo mirato del budget mettiamo che voi abbiate prego no no stavo dicendo proprio in campagne distinte cioè non buttiamo tutto in un unico calderone non un calderone assolutamente no dividiamo di modo che sappiamo che sennò quale keyword ha funzionato di più quale annuncio ha funzionato di più quale combinazione e come lo fai a sapere se hai buttato tutto nello stesso calderone quindi già è una cosa importante cominciare a dividere la campagna come se fosse in sotto campagna in sotto annunci e questi ti danno ti danno le performance cada uno e capisci cosa ha funzionato meglio cosa peggio e quindi anche il livello di test è importante perché poi scremi ti ricordi quando tu dicevi poi devi scremare ripulire se no ottimizzare la campagna fa parte anche questo giochino vi consiglio inoltre no prego di prestare molta attenzione a non mettere in più campagne la stessa parola chiave che andrebbero altrimenti in concorrenza le due campagne si darebbero una noia con l'altra quindi mettiamo che io ho due linee di prodotto queste linee di prodotto possono essere cercate in più modi quindi creo una campagna dedicata per ogni linea di prodotto e all'interno di questa campagna metterò le parole chiave che voglio intercettare che quindi mi sembrano coerenti con quelle ricerche che appunto vogliono quel prodotto dopo di che cosa faccio fra un pochino mi vado a vedere delle varie parole chiave aspetto qualche giorno quante impressioni cioè quante volte sono apparse sulla SERP sulla pagina di Google e clic hanno ricevuto questo ci dà una prima indicazione quindi noi vediamo che alcune parole sono state cercate di più altre meno qualche d'una ha un diverso CTR cioè un tasso di clic diverso questo ci può far capire che su una siamo stati più bravi siamo stati in grado di fare un annuncio migliore se è alta la percentuale di coloro che dopo aver visto l'annuncio hanno deciso di cliccare il CTR se non chiariamolo giusto per chi non lo sa è quante volte è apparso l'annuncio alias impression rispetto a quanti clic ha ricevuto si fa una ci sarà una percentuale ovviamente se è apparso dieci volte ci hanno cliccato dieci persone wow se è apparso dieci volte ce ne ha cliccata mezza ok più è alto il dato più ha performato la campagna l'annuncio quello che sia esattamente torniamo sul tuo schermo ok quindi ottimo hai completato la configurazione della tua campagna lui l'ha mandata lì questa è l'interfaccia che abbiamo nel nostro bel account qua dentro possiamo andare a vedere i nostri annunci possiamo andare a vedere le parole che abbiamo messo e possiamo qui quindi vi consiglio di creare più annunci e quindi vedere nel tempo quali ha avuto le migliori prestazioni come vedete vi metterà accanto una colonna con i click le impressioni e il ctr che stavamo dicendo e il cpc in medio non appena la campagna avrà raggiunto i sufficienti dati torniamo nelle impostazioni vi faccio vedere due cose interessanti soprattutto quando avete siti grandi allora io avevo messo massimizza i click se vi ricordate potremo fare modifica la strategia di offerta e passare a quelle che ora non posso fare conversioni o valore di conversione quindi come dicevamo prima premiare e dirgli senti tipo massimizza le conversioni possiamo dire o massimizza valore di conversione e dirgli senti io ti do 10 euro al giorno vendi più che puoi indipendentemente da cosa stai vendendo un'altra impostazione carina è questa allora vediamo se riesco a farvela vedere eccola qua impostazioni degli annunci dinamici su rete di ricerca di nuovo devo inserire il mio dominio che cosa fa qua bene noi adesso abbiamo detto che per ogni linea per ogni prodotto eccetera dobbiamo andare a manina a scriverci gli annunci a metterci le parole chiave e se avete un catalogo di 3000 prodotti è impossibile ciao 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 la prima cosa che possiamo fare è dire a google di fare il turbo seo praticamente google analizza il vostro sito prende le parole chiave quelle che avete già in organico sostanzialmente e quindi diciamo utilizza l'indice del mio sito web oppure possiamo anche passargli un file praticamente li passiamo immaginatevi un excel dove c'è riga 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 tutti gli url del nostro sito possiamo anche creare delle regole tipo dirgli fai vedere gli annunci soltanto relativamente alle pagine di prodotto no se il nostro sito ha sia un area blog che una parte e commerce io gli dico soltanto gli url che contengono prodotto così non lo spendo soldi per far vedere il blog e così in automatico qui possiamo fare una campagna completamente automatica si scrive tutto da sola fa tutto da sola si trova le parole chiave molto spesso funziona anche molto bene si aggiorna da sola se un prodotto è disponibile non disponibile eccetera su tutto il nostro sito questa è una cosa molto molto comoda che bello diciamo che Fabio una delle cose su cui io non sono un esperto di google delle ads nella parte del SEO diciamo ne capisco perché per lavoro c'ho a che fare diciamo che una delle grosse differenze se sei capitato su questo su questo video e magari ti ricordavi le google ads quelle un pochettino vecchie prima era un motore diciamo che sparava fuori e che non prendeva le informazioni perché io ti ricordo che google o lato ads o lato SEO è sempre la stessa è sempre google adesso diciamo nella versione evoluta i dati si stanno cominciando a mischiare l'intelligenza artificiale è questa la differenza sta cominciando a processare le informazioni in un certo senso aiutandoti a fare delle campagne che sono da un punto di vista molto più innovativo rispetto a quella prima che era c'ho dieci click paghi click click ok è nato quella è la parte primordiale oggi abbiamo fatto questo tipo di evoluzione in campagne più intelligente tecnicamente più semplici da un lato e più complesse dall'altro perché prevedono una serie di dati di metriche ma anche proprio di capacità di interpretare i dati le metriche la campagna la strategia che c'è dietro per certi versi è più facile per certi versi è più complessa però quello che ti sta dicendo Fabio è non ti fermare alla classica campagnetta su cui magari eri rimasto qualche anno fa e approfondisci queste che potrebbero essere delle nuove modalità chiamiamole nuove ma per far sfruttare le conoscenze che google ha e che magari tu non hai quel lì voleva arrivare oggi google ads io sono un appassionato di meccanica un tempo le auto erano a carburatore se avevi un problema un cacciavite un martello in qualche maniera avevi il controllo diretto della situazione oggi è tutto elettronica anche google ads praticamente non abbiamo più un controllo diretto di che cosa sta facendo non sarà tanto dentro la campagna che faremo grandissime operazioni ripetitive manuali e lunghe saranno poche le funzioni che dobbiamo gestire là dentro la partita si è spostata in altri due luoghi nel tracciamento è importantissimo fornire a google ads i ottimi dati di tracciamento noi dobbiamo dirgli bene chi ha acquistato chi è che ha visto il carrello chi è che è arrivato al checkout più informazioni gli diamo tanto meglio funziona la macchina e questo lo possiamo fare con il collegamento di analytics guarda mi rimetto un attimo lo schermo ci sono strumenti e impostazioni molto semplice conversioni qui avremo l'elenco di quelle che sono le nostre conversioni e qui possiamo andarle ad aggiungere se non abbiamo analytics google ads ci dà un suo pixel che possiamo inserire se invece abbiamo già analytics apparirà il pulsante con collegati ad analytics ecco ok più conversioni non ne ho punte in questo momento non ho nessuna importo perché io vorrei prendere da analytics e lui appunto mi dice da eccolo qua seleziono analytics questo punto cliccando continua mi farà collegare al mio analytics e importerò quelli che attualmente ho come obiettivi impostati nel mio analytics è fondamentale questo questo è uno degli aspetti più importanti poi magari se vi interessa ragazzi approfittiamo c'è una sezione qui sotto delle domande dei commenti o quindi se hai domande se vuoi fare commenti su qualche cosa ovviamente che si possa rispondere sotto un video di youtube quindi non avremo poteri limitati per certi versi però in qualsiasi caso tu ricordati che c'è una sezione gratuita delle domande magari facci le domande e magari se ti può interessare una cosa del tipo specifica approfondire una delle cose che Fabio ha detto per esempio come si installa un pixel per esempio come si imposta un obiettivo su google analytics per esempio tutta un'altra serie di cose che sono legate a questa roba qui tu me lo dici nei commenti e io poi insomma cerchiamo di pensare di organizzarci per poterlo realizzare come video io torno sul tuo schermo eccoci qua una volta che abbiamo creato questa nostra prima campagna appunto dovremo andare a creare altre dovremo provare le varie tecnologie ma dobbiamo fare anche altre piccole cose qua abbiamo la voce annunci ed estensioni che cosa sono le estensioni le estensioni sono una serie di informazioni a corollario che possiamo utilizzare si chiamano sitelink call out snippet strutturato in google vale sempre la stessa regola più ne fai meglio è quindi è molto meglio cercare di compilare tutti questi campi e anche se ci interessa relativamente comunque si fa velocemente i sitelink sono questi quelli che appaiono là sotto vedete vi fa anche un esempio quando lo scrivete vi fa vedere che cosa appare quello il sitelink è cliccabile cioè quando una persona esce e clicca vi porta un'altra pagina nel vostro sito potete mandarli anche nella stessa pagina però dovete sfruttare questi spazi per cercare di dare quante più informazioni possibili per far risaltare il vostro annuncio nel mezzo al mare di annunci che il cliente il potenziale cliente ha davanti in queste estensioni di tutto ce n'è una molto carina allora guardate che queste estensioni abbiamo sitelink quindi sono questi cliccabili call out sono delle informazioni aggiuntive tipo spedizione gratuita non cliccabile però ti dà un'informazione utile snippet strutturato ad esempio potrebbero essere i modelli sono uno che vende persiane e nello snippet metto in legno in alluminio in ferro poi ci abbiamo la chiamata qui non ho tradotto male vi fa mettere un numero di telefono e potete ricevere le telefonate esse saranno conteggiate a patto che la chiamata sia durata almeno 30 secondi perché se no non vale ah vi potreste allarmare di vedere su google un numero di telefono che non è il vostro perché perché google per tracciare la chiamata fa un inoltro a se stesso quindi farà comparire lì un numero finto che quando la persona chiama passa da un server di google che chiama voi così google può tracciare la chiamata quel numero lì comunque chiamerà sempre voi quindi se quell'utente se lo salva comunque chiama voi certo google continuerà a sapere la vostra relazione non è che a google lo chiami a fine mese dice oh ciccio ho ricevuto 30 chiamate da 30 secondi spiegati i soldi no no google lo vuole sapere prima questa roba certo è impressionante e poi potete anche collegarvi ad esempio alla località quindi se avete una scheda su my business la potete collegare quindi creare delle campagne a carattere geografico quelle che abbiamo accennato prima se avete delle app se avete dei prezzi da esporre tantissime funzioni che vi consiglio utilizzare alcune sono più difficili tipo modulo per i lead il modulo per i lead è l'equivalente delle lead di facebook cioè quando senza entrare sul sito ma direttamente sulla pagina di google vi appare una form da compilare questo è molto interessante perché appunto rende molto agevole per il potenziale cliente la compilazione quindi inviarvi una richiesta però spesso porta lead un pochino sporchi perché? perché questi perché è così facile compilare che la gente spesso li compila un po' distrattamente non è realmente interessata quindi va sempre visto se il gioco vale la candela di sicuro ci sono anche bot su questo quindi ma non ti direi di no in questi casi però c'è proprio gente che arriva un po' a caso questo purtroppo succede quello che però è necessario in questo caso è necessario un tecnico perché va fatta un'integrazione di solito si usa Zapier ne avrete sentito parlare perché ora si collega a tutto anche a TikTok in alto link o in basso in descrizione tutorial di Zapier se non sai di che roba è c'è il tutorial Fabio ce l'abbiamo c'è il tutorial ce l'abbiamo e questo trasformerà perché altrimenti Google cosa fa? vi crea un csv proprio un file scomodo che voi giornalmente dovreste andarvi a scaricare mamma mia che scomodità con Zapier vi diventa una mail quindi vi arriva una mail in quel caso allora può anche essere utile certo certo è interessante per esempio il facebook lead ads o i moduli di google sono interessanti se per esempio tu fai come call to action io ho la newsletter anche ti ho detto prima iscriviti alla newsletter tre strumenti di automazione a settimana ecco tu puoi creare questo tipo di campagne le persone con Zapier gli fai il ponte si iscrivono direttamente alla newsletter senza che tu debba fare nulla aperta come esempio oppure per il magnet o per queste cose è davvero utile comunque una cosa del genere bene a questo punto noi abbiamo creato la nostra prima campagna di ricerca abbiamo messo le nostre estensioni gli abbiamo detto che se vuole può andare in automatico a prendersi tutti i prodotti del nostro sito e quindi abbiamo già fatto un'operazione grossa quello che vi consiglio di fare appunto è cercare di dividerlo non dategli tutto il sito provate tipo a dargli delle categorie tipo se il vostro sito appunto mettiamo sia un e-commerce e avete cinque categorie frigoriferi lavastoviglie fornelli fate campagne distinte sulle varie categorie sui prodotti più importanti fate delle campagne dedicate che contengono come parole chiave il nome di quel prodotto controllate che cosa sta facendo la concorrenza perché è inutile spendere per far apparire un annuncio se accanto al nostro annuncio ci sarà un concorrente che lo offre a 20 euro di meno vanno tutti lì noi spendiamo inutilmente quindi cerchiamo di prestare attenzione a che cosa fanno questi utenti un'altra informazione Fabio scusami se ti apro una parentesi Fabio ha detto una cosa fondamentale non giochiamo la partita delle ads da soli sarebbe bellissimo ma non possiamo solo nelle impostazioni di una campagna io vedo molto spesso parlando con i clienti e di una pubblicità dice sì ma io tanto faccio la pubblicità quindi poi le persone vengono da me no perché quando magari sei anche a livello tecnico ti stai infognando dentro le impostazioni di una campagna in questo caso sulle Google Ads pensi di poter controllare viene un po' la sindrome di Dio controllo io tutto il mondo e no perché l'ecosistema che c'è attorno all'utente finale è molto più ampio e variegato di quello che tu puoi immaginare quindi non pensare di essere l'unico che fa o l'unica che fa quella proposta di quel prodotto di quel servizio magari studiati come diceva Fabio la concorrenza e cerca di capire come la tua offerta si inserisce nel mondo nel panorama nel ventaglio di possibilità che l'utente finale ha perché è lì che magari si gioca una parte della partita non solo il nostro caro amico Google che si prende 12 multe l'anno per abuso di posizione predominante non è così gentile cioè lui ti dice per me si fa così quindi si fa così per me è così per gentilezza sostanzialmente lui purtroppo determina degli standard e purtroppo per fortuna tantissime persone utilizzano questi strumenti quindi dobbiamo riuscire appunto a divergere un po' rispetto ai nostri competitor altrimenti rischiamo un po' di fare il gioco di Google cioè paghiamo e questa è un po' la fregatura altra cosa che vi consiglio sempre dove abbiamo messo le parole chiave accanto c'è un altro pulsantino che si chiama termini di ricerca andate lì e perdeteci del tempo cosa significa? per come funziona Google in realtà poi lì si può entrare in dei tecnicismi che si chiamano corrispondenze ma oggi lasciamo perdere noi gli diamo una parola chiave facciamo l'esempio scarpa rossa parola chiave significa che noi diciamo a Google che vogliamo intercettare coloro che digitano quella parola chiave vendita scarpe rosse online facciamo l'esempio bene Google però non attiverà il vostro annuncio solo quando uno digita esattamente quello ma ogni qualvolta digita qualche cosa che per Google significa quello e questo può essere interessante perché potrebbe essere vendita scarpe rosse online usate e lì non è più il vostro target o potrebbe essere mille possibili declinazioni addirittura il nome di un concorrente mettiamo che ci sia un concorrente specializzato nella vendita di scarpe rosse se io metto una cucina veneta cucina no rossa e lui ti fa vedere no ma proprio in maniera concettuale c'è un'azienda con mia concorrente specializzata nella vendita di scarpe rosse se un utente va su Google e cerca il nome di quell'azienda di cosa ha bisogno di scarpe rosse quindi se io ho messo fra le mie parole chiave scarpe rosse il mio annuncio potrebbe essere attivato da una persona che cerca il nome di quell'azienda perché l'intenzione dell'utente è la stessa questa cosa qui ovviamente la dobbiamo gestire non necessariamente sbagliata addirittura se appunto abbiamo messo la nostra campagna in ROAS quindi diciamo a Google palla girare solo se effettivamente vendi X può sbagliare ma comunque da solo taglierà quei rami che non vendono cioè ci sta che Google ogni tanto provi un nuovo termine di ricerca vede che non clicca che non compra non ci ritorna ma se ma l'augurato caso quella parola chiave genera delle interazioni appunto lì di nuovo diventa importante il controllo delle transazioni mettiamo che quello che ha cercato usato entra su di voi ci clicca e fa un'azione arriva al carrello e via dicendo Google dice ho trovato una persona soddisfatta e quindi insiste a far vedere il vostro annuncio su quella specifica ricerca altrettanto vi potrebbe appunto creare dei guai politici con i vostri concorrenti quindi è bene controllare ed escludere bellissimo bellissimo fabio non so se volevi aggiungere qualcos'altro oppure vogliamo parlare della parte di automazioni fra un secondo facciamo così fabio tu pensa se c'è qualche altra cosa da dire io sono perfettamente soddisfatto e mi hai spiegato un mondo è ovvio il mondo è diventa un universo se ci entri nei tecnicismi in questo momento qui volevamo fare una carrellata come gli obiettivi che ti ho detto prima amico o amica automatica farti comprendere come impostare la prima campagna da solo o da sola o capire come parlare con un tecnico che ti possa aiutare se devi crescere diciamo a livello di numeri anche a livello di investimenti la seconda strada è l'unica strada che puoi ottenere anche perché google cambia si aggiorna si evolve e non è che tu per lavoro ci puoi stare dietro io quello che vi chiederei di fare anzi ti chiederei proprio a te che stai lì è ma ti è piaciuto sto ragazzo sto fabio che col sorriso ti ha spiegato tutta sta roba qui se ce l'ha raccontata per filo e per segno gli lasciamo una scatervata di mi piace così lo ringraziamo perché il nostro modo che abbiamo sotto un video di ringraziare i nostri ospiti lo sapete tanti tanti 2500 like per fabio che è stato gentilissimissimo chiarissimo per quello che mi riguarda tutte le domande già le abbiamo detto qui sotto se invece oltre a ringraziare fabio che è un must si deve fare ma se invece ti interessa tutto il mondo delle automazioni come abbiamo detto sempre l'automazione di business l'automazione di mail l'automazione di strumenti di strategie di figate di tutti i punti bene iscriviti al canale attiva la campanellina perché come sempre è l'unico modo che ho per notificarti per farti sapere che google in questo caso perché youtube sempre di google è ti va a dire che abbiamo pubblicato un nuovo video se no te lo perdi semplicemente è così te lo perdi te lo perdi fabio voleva aggiungere qualche altra cosa o salutiamo i nostri amici automatiche con la parte passiamo passiamo alle automazioni passiamo alle automazioni fabio quando andremo a parlare parliamo di un attimo proprio un spoiler già ti dico amico amico automatica e a breve pubblicheremo un altro video motivo in più per iscriverti al canale attivando la campanellina parleremo delle automazioni di google ads come si chiamano tecnicamente fabio ce ne sono tante però adesso è arrivato un nuovo tipo di campagna che si chiama performance max e in più esistono delle campagne smart che sono delle campagne automatiche che fanno davvero tantissime cose da loro da sole in più noi possiamo andare lì a fare delle cosine in più per automatizzare tutto il nostro lavoro lì ad essere bravi dovremmo saper fare degli script proprio per ottenere il massimo ma si trovano online gratis quindi bellissimo 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 quindi un abbraccio forte dalle canarie buone automazioni a tutti e fabio grazie grazie a voi grazie a te ciao ciao grazie ancora ciao